Immaginate la differenza tra un ritratto e una foto di cordo. Il ritratto è un'opera d'arte, il ritratto tende ad elevarsi, ad universalizzarsi, a rivolgersi al mondo. Invece la foto ricordo e mi limito proprio a questo settore della fotografia, la più umile, non ha nessuna verità particolare, vuole solo fissare un istante, vuole tecnicamente cercare di imprimere un'immagine privata su una superficie. Allora, è proprio questa dimensione, credo, che un pochino manchi, ma è la mia opinione personale insomma, nella sfera della musica d'arte e comunque dell'opera d'arte. Non c'è spazio per il privato, perché qualsiasi cosa sia privata, nel momento in cui viene declamata da un attore, immaginate una recitazione, diventa appunto declamata, si spettacolarizza, cessa di essere privata, in qualche modo si falsifica. C'è un poeta meraviglioso, si chiama Pessoa, che dice il poeta è un fingitore, finge così completamente che arriva a fingere che è dolore, il dolore che è davvero sempre. Allora, lo scopo di tutte queste apparecchiature questa sera è quello di riuscire a inserire in un'esecuzione pianistica proprio questa filigrana, questo strato di privato, senza falsificarlo, senza intaccarlo. Il privato di cui vorrei parlarvi sono quattro mesi, quattro mesi della malattia di mio padre. Io potrei raccontarveli, però voi rimarreste degli spettatori e non c'è spazio per gli spettatori nel privato. Il privato prevede dei testimoni e io vorrei farvi diventare dei testimoni. Per farvi diventare dei testimoni vorrei portarvi dov'ero, con mio padre, respirare la stessa aria, sentire gli stessi suoni, essere nelle stesse stanze. E per questo ho fatto delle specie di fotoricordo. Cioè in sostanza ho registrato il riverbero di otto stanze diverse. Cos'è il riverbero? Il riverbero è la differenza che passa da sentire una monetina che cade dentro una cabina telefonica e la monetina che cade dentro il tunnel. È sempre il suono della monetina, però cambia enormemente. Quello enormemente è la risposta dell'ambiente. Allora registrare un riverbero non è come registrare un suono. Bisogna mettere un segnale. Questo segnale insieme alla risposta della stanza viene fatto entrare nel computer. Il computer fa i conti e isola la risposta d'ambiente dal segnale. Quindi noi teniamo solo il riverbero puro e lo utilizziamo come filtro in tempo reale. Che cosa vuol dire? Molto semplice. Vuol dire che io suonerò il piano e quello che suonerò passerà dentro i microfoni in tempo reale, cioè nello stesso momento in cui avviene questo, voi lo sentirete anche dalle casse e non una normale amplificazione. Ma quello che sentirete dalle casse non è soltanto il suono del pianoforte. Ma il suono del pianoforte mescolato di volta in volta nelle diverse stanze, negli ambienti diversi di livello. Queste stanze sono le nostre stanze. Sono il soggiorno, la camera da letto, lo stanzino dove ripingeva, sono le stanze dell'ospedale e ci sono anche due stanze immaginari. Immaginari perché non esistono e le ho ricavate semplicemente manipolando, un po' torturando la voce di mio padre e il suono di un ascensore che ho sentito in chirurgia e per me ha un po' anticipato tutta la nostra vicenda. Naturalmente vi domanderete adesso che cosa suonerò. Suonerò un pezzo di Schumann, si chiama Chrysleriana e la ragione per cui suonerò proprio questo pezzo viene dalla lettura di un saggio di Roland Barthes che definisce curiosamente la scrittura di Schumann una scrittura privata. Dico è perfetto, è perfetto per il nostro scopo, facciamo Schumann. Però immediatamente salta all'occhio un'incoerenza. Barthes dice che la scrittura di Schumann è privata. La mia domanda è come riesce Schumann a scrivere qualcosa che riesca a rompere questa tendenza dell'arte a arrivarsi di torno a questo strato privato? Ci riesce perché mette il dito sulla piaga, riesce a rompere una caratteristica del brano che permette al brano di licenziarsi dall'autore, dalla propria epoca. Cioè attacca l'autonomia della forma. In poche parole qualcuno di voi sicuramente sarà un esperto di musica e l'esperto di musica funziona in questo modo. Ascolta un brano e sa perfettamente che si tratta di una fuga, di una sonata, sa che ci sono dei temi musicali, sa che ci sono dei soggetti, conosce i comportamenti delle linee melodiche, il contrapunto. Invece ascoltando Schumann accade l'inverso. Effettivamente sì, l'esperto comincia a riconoscere un soggetto di fuga e comincia a immaginarsi che questo comincerà a svilupparsi contrapuntisticamente. Poi improvvisamente brano Schumann fa evaporare questa situazione e ne crea un'altra inaspettatamente. E lo stesso soggetto che prima sembrava quello di una fuga diventa un tema sinuoso, simile ad un notturno di Chopin. Poi Schumann sembra stringere e allora diventa qualcosa di molto simile ad una sonata di Beethoven e ad un certo punto cambia scrittura, è sempre una scrittura violinistica, sembra di sentire un concerto di Paganini per violino. E qui l'esperto è disarmato e io sono molto felice che lo sia. Schumann in questo è estremamente democratico perché il messaggio di Schumann è che per una buona mezz'ora la durata di questo brano dovremmo deporre tutta la nostra sapienza musicale e limitarci letteralmente ad ascoltare. Perché quello che abbiamo di fronte non è un'opera che si licenzi, quello che abbiamo di fronte è un diario. Qualcosa di meno o qualcosa di più della musica. Perché è la libera immaginazione musicale di Schumann, è il trusso dei suoi pensieri, è come vedere battuta dopo battuta ricordi, tinte, colori, citazioni. e tutto questo non va capito, va condiviso. Per cui sullo stesso palco non troviamo semplicemente due mondi musicali diversi, quelli della musica classica e quelli della musica elettronica. Troviamo due forme di privato diverse. Abbiamo una parola in italiano strepitosa perché sia un aggettivo che un verbo. Come aggettivo parla di qualcosa di molto personale, privato. E come verbo privare ci dice di qualcosa che ci viene tolto. Quindi adesso ascolteremo del privato ciò che è intimo e ciò che è sottratto.